Vi propongo il Breda 501, cacciacarri italiano che si trova in era 3 a 4.7 Abbiamo un cannone da 90 che spara ogni 6.4 secondi senza l'ultima qualifica Potrebbe sparare più velocemente Spareremo dei proiettili perforanti che fanno davvero malissimo Soprattutto ci troviamo, ripeto, in un'era piuttosto bassa Cinque membri dell'equipaggio che sono così disposti Pilota, comandante, artigliere, servente e mitragliere Abbiamo poi due mitragliatrici da 8 mm poste nella parte posteriore del nostro cacciacarri E poi una velocità massima stimate in 60 km orari Una corazzatura ovviamente piuttosto limitata in quanto il cacciacarri di per sé sarà molto aperto E quindi vulnerabile agli attacchi soprattutto delle unità aeree e non solo Il tutto sarà supportato dal mitico Bf 110 G4 Piccola particolarità Abbiamo dei cannoni da 30 che già di per sé sono fantastici E in più dei cannoni da 20 fissi che sparano verso l'alto Quindi una piccolissima particolarità, ripeto, che è presente in diversi Dornier tedeschi Chiusa parentesi Saremo armati poi con diverse bombe Grandi Insomma e anche piccole Qui ho messo l'arma utente dove ho selezionato quello che preferivo Ragazzi mi raccomando un mi piace al video per sopportare il canale del Buon Devi Siamo vicinissimi a quota 20.000 iscritti Se non siete iscritti a questo punto e il canale è di vostro interesse Non solo War Thunder, anche World Warships Enlisted e Project Cold War Appena finirà la fase di test del gioco È quello che potete trovare come intrattenimento sul mio canale Cos'altro dobbiamo dire? Molto importante, oggi vi carico due partite piene Vi faccio vedere tutta la partita Fatemi sapere anche se preferite diverse scene di diverse partite Con diversi tagli oppure con delle partite intere Fatemi sapere un pochino cosa ne pensate Magari possiamo alternare anche il metodo di registrazione Anche se fino a questo momento voglio dire Non siamo andati malissimo Però come sapete mi piace anche confrontarmi Confrontarmi con il pubblico che mi segue e mi sopporta Andiamo a vedere insieme il Breda 501 e il BF 110 G4 Vamos! Quanto vorrei avere uno Stug in questo momento Bello, piccolino, profilo basso Eh vabbè, ci accontentiamo Lo vedo, lo vedo, lo vedo, lo vedo, lo vedo, lo vedo In realtà non l'avevo visto Avevo scambiato la... il tetto per... Vabbè, vabbè, cose mie, dai La kill è arrivata La cosa importante è la kill è arrivata E chi si muove da qua? Il problema è che... Eh no, Fra, non ti posso aiutare Non mi chiedere di aiutarti perché sono in una situazione un po' così Quello sta là dietro e non riesco Non era proprio facile I miei mitraglieri ovviamente fino là non ci arrivano Perché altrimenti poi troppo... Troppo bello Rimaniamo fermi Al momento rimaniamo fermi immobili Bra, lo vedo, un attimo Sulla penetrazione Non... Cioè, sono convinto Mi piace, va benissimo Top Dieci elode E sulla resistenza che... Questo fatto che non posso attaccare gli aerei Guarda Eh, che gli dico? Guarda, ma io dico Un mitraglieri davanti Ma porca di quella miseria Ma porca di quella miseria Guarda che scarica che abbiamo Guarda Ma stai vedendo la scarica che abbiamo? Ma mi viene pure da ridere A sparare con queste mitraglieri Eh, forse devo rimanere qua Perché nel frattempo Mi sono passati Almeno uno Uno è passato Ui, 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 ui Fra che vedo? Eh, quello era un su 152 Quello che ho... Che hanno distrutto i miei alleati Io ho distrutto il suo 85 No Ma non posso fare nulla Cioè, veramente Essere limitato così tanto Viene giù il server Se entrava questa Io direi di rimanere fermi così E di... Fermi Fermi Prendi posizione Vedi, vedi Ci voleva un mitragliere Hai capito? Perché non lo abbiamo? Perché non lo abbiamo? Ui Che fastidio Ma... Ma è una scarica ridicola È una scarica che non ha senso Ma ragazzi È una scarica Veramente Imbarazzante Ma che cavolo Dei mitragliatrici Ma che mitragliatrice pronta Cioè, ragazzi Dai, ma non si può fare così male Qualcosa è vivo? No Era il BTR Lì all'inizio Allora Se rimanete lontano Prendete posizione Cecchinate Grazie Arrivederci Potete farlo Però poi Però poi non potete fare molto Cioè, nel senso Non... Altre cose non potete farle Io un colpo te l'avevo dato però Prima Eh, ma col colpo non si fa nulla Non il colpo Ci mettiamo solo tre ore a ricaricare la mitragliatrice Perché magari qualcuno potrebbe dire Eh, ma c'è la doppia mitragliatrice Sì Ho la doppia mitragliatrice Ma ho la scarica praticamente Molto breve Quindi Alla fine È come se io non avessi Vabbè In realtà qua potremmo anche avanzare un po' Abbiamo fatte cinque Che ti devo dire Non è malvagia la situa Eh, poi si scanta da solo Ovvio Ma non penetrato Ma che vuol dire non penetrato? Non penetrato Ma che vuol dire? Guarda Guarda Io mi sto fissando con gli aerei che ci sono E con le kill che potevo fare sugli aerei Che ovviamente Non No Semplicemente no Quella doppia mitragliatrice è fantastica Nel momento in cui Fosse Frontale Allora Sai che c'è di buono Però posta lì dietro Non ti Semplicemente non aiuta Potremmo provare ad avanzare Adesso stanno tutti lì ovviamente No 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 Mi sono preso un danno Eccolo là Vabbè è normale Senza corazza Non so che stai là dietro Cavolo ho sparato Ovviamente qua la ricarica mi è aumentata Perché L'equibaggio è stato ferito In realtà non si capisce bene dove si trova lui Fare quel giochetto con binocolo Non è proprio facilissimo Solidamente ve l'ho fatto vedere più e più volte Perché quello è il mirino Il mirino Il cerchio Il cerchio Indica il colpo dove va a cadere Quello piccolino Capito? Quindi Diciamo che si potrebbe fare quel ragionamento Utilizzi No In una situazione anche magari dove lo vedi Non lo vedi Un po' di dislivello E allora lo utilizzi Ma non è propriamente così con quest'unità Ho notato questa cosa O perlomeno non mi è venuto come Come avrei voluto Vabbè Diciamo che siamo partiti in una fase Siamo partiti lenti Siamo posizionati Tranquillamente La squadra La squadra poi è salita La squadra è salita Vabbè adesso la partita è terminata Ci portiamo a casa un 1700 Che ti devo dire Non è male Carista eroico Ma perché sta cosa il Panzer 4 che distrugge le solite cose strane Vabbè All'interno di tutto quanto portiamo a casa in soldoni Che crediti Esperienza Il puro guadagno Una cavolata No in realtà abbiamo Doppio colpo Lavoro di squadra per 3 Serie di attacchi furtivi per 3 Professionale per 2 Garrista eroico La squadra migliore Un 1700 Con distruzione delle unità terrestre e marine 1153 Vabbè Not bad Ho appena acquistato tra l'altro i filtri nuovi Che mi danno una maggiore potenza del motore Meno tempo nell'accelerazione Adesso ricerco i freni nuovi Magari i freni potete rilasciarli anche per ultimi Qua c'ho delle sospensioni che devo acquistare tra l'altro Nice Manca motore E trasmissione Le cose penso più importanti alla fin fine Ecco In una situazione del genere Vedete l'albero per esempio Guarda Tac Hai visto? E' solido diciamo Il portellone aperto Non è un qualcosa Dove magari qualcuno potrebbe pensare Che passa attraverso l'ostacolo O l'albero Ok? Da tenere a mente Questo particolare E... Sarebbe il caso Magari Sarebbe bello Per meglio dire Vedere anche il movimento Dei soldati Che vanno a chiudere il portellone In base alle esigenze Magari i due mitraglieri Si staccano un attimo E vanno a chiudere il portellone Ma butto lì Però non è... Non è... Non si può fare Semplicemente non si può fare Secondo me sarebbe una bella Cosa da implementare Anche a livello... A livello visivo, no? Delle cose che si può fare All'interno del gioco Devo fare attenzione Perché ovviamente L'artiglieria mi farebbe malissimo In quanto Non siamo corazzati Cioè siamo... Sento il rumore Normale che ci sono Allora un attimo E li si sentono Lontano un chilometro One moment Please Però se tu stai lì Mi... Eh il concept No ecco Facevo affinamento Sul delay Direi di no Direi che non posso fare Affinamento sul concept Se vado Mi metto nei casini Non abbiamo corazza Potrebbe uscire qualcuno Da quella parte Allora facciamo una cosa Perché la devo fare io? La fortuna Fa parte del gioco Eh però non dormiamo Eh grazie Non dormiamo Io ho paura Che se lascio questa posizione Ah ma quello pure è morto Eh Dobbiamo aspettare i rinforzi Aspetta Eh mo Situazione tragica Bravo Ci sono io Casomai ne esce un altro Eh no Ho preso la cala E non dormiamo Me lo dico da solo Dormo pure io Va benissimo Lo streamer può Il creatore di contenuti può Ahahahah Ho detto Mo sparo e prendo la macchina E infatti è stato così Abbiamo catturato Prego prego Striker 1900 Fammi sentì Qui dietro stanno Aspetta che ne arriva un altro Il problema Tra l'altro Che se uno Dovesse Dovesse fare Troppo in chat Ve lo Segnala come spam Ed è una cosa Secondo me Abbastanza fastidiosa E non giusta Cioè Perché come spam Sulla base di cosa Ah Aereo Vedi Che gli dico a questo Bravo Bravo Striker Scusate se non parlo Eccolo là E' normale E' normale Con gli AK3 E' normalissimo E' normale E' giusto Semplicemente E' una cosa Fastidiosissima E' una cosa Molto fastidiosa Questa Non potete fare nulla Semplicemente Non potete fare nulla Peccato Vediamo se ci Non dico vendichiamo Ma facciamo qualcosa Con il nostro BF Che comunque E' un'ottimo Un'ottima unità Controli gli AK3 Ecco Poi si andrà pure a schiantare L'M4 Distrugge L'M10 Con L'artiglieria E Quell'altro Si va a schiantare Va benissimo Bravi Bravi Complimenti No così Facciamo vedere Anche le persone Che seguono Il gameplay Il video Di che cosa siete capaci Di che cosa siamo capaci Nell'intrattenimento Va bene Tutto Fa tutto Capito Senti Do stanno Eccolo Ok E' da un po' Che non lo sgancio Bombe Era vicina Polpo Ma era piccola Forse è stata Un po' più grande L'avrei A questo punto Sganciamo prima Quella da 1000 Dai La prossima E' quella da 1000 Che sgancio Vediamo se riesco A Lo vedo Fra lo vedo Un attimo Non mi mettere ansia Bravo Ok Bingo Lascia far a noi Siamo dei professionisti Bomba da 1000 Ma ci abbiamo Quelle piccoline Quest'unità Questa unità è fantastica Cannone da 30 E non solo Lo vedo Lo vedo No andiamo su quest'altro Dai L'ho sganciato? Si Buona Kill No colpo Mi ha preso Il motore Diciamo che Dobbiamo tornare A base Se levo il web Già Allora Via le bombe Ci alleggeriamo Motore Motore danneggiato Perdita di olio Acqua No Acqua Ok Allora Tecnicamente La base No Pensavo fosse più lontana Mi stavo preoccupando E' vicina Ci facciamo l'atterraggio Che tanto adorate Un mi piace Per l'atterraggio Facciamo un atterraggio Alla devi Motore di destra Completamente andato Signori Si atterra Con un motore Va bene Nulla di complicato Mettiamo In realtà Zero Anche l'altro Che scarica Via il carrello Via il carrello Veloce Non perde il tempo Flap Atterraggio Qualche danno strutturale Ma Si atterra Come una piuma Signori Guarda qua Guarda che atterraggio Dio fa Qua Motore spento Magari se frenassi Eccolo qua Ah una cosa che non vi ho detto E' che abbiamo Cioè quando noi spariamo In realtà Mi spara anche sopra Perché Poi magari ve lo faccio vedere Si Ve lo faccio vedere All'inizio Vi parlo di questa cosa Che è anche particolare Alcuni Dornier Hanno I cannoni Messi Sulla Sulla fusoliera D'accordo E' una cosa Molto particolare Penso di non aver mai fatto Una kill Con Con i cannoni Sulla fusoliera Guarda là Si vede proprio Molto interessante Come Come meccanica Vabbè Allora qua Io andrei a selezionare Nuovo la bomba Grande Ma in realtà Non c'è più tempo Perché Abbiamo fatte Quattro In realtà Tre Non mi ricordo Neanche Il nostro Striker 1900 Ha fatto Sette kill Bravo Mi sarebbe piaciuto Distruggere Qualche Vabbè Qua sicuramente Poi Si può Impostare Anche Allora dunque Si possono impostare i tasti Si può impostare tutto quanto La squadra migliore Vabbè Poca roba La quinta posizione Che Che ci portiamo a casa Con la bomba In realtà Mantengo un certo feeling Quella lì era troppo piccola Bisogna proprio Prenderlo in testa Per fare la killo O l'unità deve essere Particolarmente leggera Per i frammenti No Doppio colpo Soccorritore Ricari per uno Serie attacchi furtivi per tre Triplo colpo Lavoro di squadra Per tre La squadra migliore Ci portiamo a casa Un 1517 Nel dettaglio Sblocchiamo anche I freni nuovi Per il nostro Breda 501 Semplicemente È un cannone Che non delude Quando Colpite l'avversario Nove volte su dieci La kill Arriva La ricarica È molto buona Attenzione Qui l'equipaggio Si potrebbe ulteriormente Addestrare Tramite L'ultima qualifica D'accordo La cosa negativa E che avete visto Nelle due partite Che vi ho caricato È che Attaccare gli aerei Risulta quantomeno Complicato Perché A meno che non sia Dietro È difficile È impossibile Per meglio dire Al netto di tutto La scarica Delle mitragliatrici Da 8 È molto breve Quindi dovete Veramente colpirlo La ricarica È infinita E in ultima analisi Se un aereo Decide di attaccarvi Anche con delle Semplicissime 12.7 Non serve neanche Il cannone Che aveva Lo Yak 3P Se ricordo bene Che ci ha attaccato Lo Yak 3P Dovrebbe essere Da queste parti No lo Yak 3 era Che ha il cannone Da 20 C'era anche il 3P Se ricordo bene Eccolo qui Lo Yak 3P Eh vabbè Queste sono serie Gli Yak L'abbiamo visti Veramente negli anni Passati del canale Parliamo di 7 8 anni fa D'accordo Magari più veterani Veterani Si ricorderanno anche Il mitico Yak 9 UT Comunque senza andare Troppo indietro Nel tempo Rimaniamo Nel presente La 12.7 È più che sufficiente Per semplicemente Uccidere tutti i membri Dell'equipaggio E quindi l'unità Viene automaticamente Persa Con il 110 Avrete Garantita Una buona presenza In aria Bombe Cannoni Resistenza Che volete di più Avete tutto quello Che vi serve Quindi questo Beh questa penso Che sia una coppia Veramente vincente Nonostante sia A 3.7 Il BF 110 E a 4.7 Il BF 110 Però insieme Possono lavorare Tranquillamente Senza troppi Problemi Poi il Breda Vi ricordo Ancora una volta Che in futuro 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 Andrà a diventare Il Centauro D'accordo Tra l'altro Trovate il gameplay Disponibile Al Centauro Già sul canale Ed è un passaggio Obbligatorio Perché come vedete Tra l'altro Qui È tutto collegato Dal 43 Fino al Centauro È tutto collegato Il ramo Bisogna sbloccarlo Per forza Ragazzi Video terminato Io come sempre Vi ringrazio per I commenti Le visualizzazioni E noi come sempre Ci vediamo Con un prossimo gameplay Ciao Ciao